E' arrivato in libreria il primo albo a fumetti della serie I Cacciatori dei Sigilli Perduti, i fantastici supereroi in difesa della natura e dell'ambiente, nati dalla creatività di Angela Tabata di Matteo, direttamente disponibile dalla nostra libreria online, consegna nel giro di pochi giorni presso il vostro domicilio, è ordinabile nelle librerie, fumetterie e principali store online. Per informazioni info-agbookpublishing.com